È una serata tutta fiction, quella che ci attende questa sera, mercoledì 19 novembre 2014. Mentre su Canali 5 andrà in onda l'ultimo episodio della sesta stagione dei Cesaroni, su Rai 1 ci attende una nuova puntata con la fiction spagnola Velvet. Entriamo allora nel merito dell'episodio odierno grazie alle nostre immancabili anticipazioni. La cognata e il fratello di Cristina sono arrivati per partecipare alle nozze, ma la loro presenza infastidisce non poco Alberto, il quale comincia ad avere un assaggio di ciò che potrebbe essere la sua vita coniugale. Ormai però è arrivato a un bivio, se vuole tirarsi indietro lo deve fare ora o mai più. Enrique nel frattempo con il suo comportamento arrogante si sta tirando più di un'antipatia. Davvero incomprensibile la sua decisione di licenziare Raul, nonostante lo stidista fosse riuscito a invitare alla Galleria Velvet addirittura la principessa di Monaco. Come se non bastasse anche Barbara sta creando dei problemi ad Alberto. La sua curiosità e le sue continue osservazioni stanno confondendo Cristina. Pedro nel frattempo ha deciso di partire per la Germania senza però essere riuscito a confessare il suo amore a Rita. Luisa intanto ha deciso di rinunciare al bambino che aspetta. Anna infine in grande segretezza ha venduto i suoi capi al negozio di Aurora, mentre la corte di Max nei suoi confronti si fa sempre più serrata e audace.